Ma ciao! Buongiorno, buon pomeriggio, buon Eccomi qua con un altro spacchettamento di un altro calendario dell'avvento questa volta quello della Ritter Sport L'altra volta ho fatto l'apertura del calendario della After Eight Eig Ecco, sinceramente a me non ha entusiasmato molto perché speravo speravo, sarà per colpa mia perché io l'ho preso, l'ho visto l'ho preso senza guardare perché poi non c'era cosa c'era dentro c'era la foto del calendario quanto costava metterlo nel carrello e prenderlo non è che c'era cosa c'era dentro però io pensavo che ci fossero cose un po' diverse cose magari forme diverse e più che altro anche dentro che c'erano i cioccolatini non solo alla menta perché so che l'after di quelli lì hanno fatto anche quelli ripieni alla fragola eri pieni ad altri gusti perciò io pensavo che anche dentro il calendario ci fosse un po' di roba diversa e invece sono rimasta un po' delusa perché erano o palle due palle appunto o palline o quelli là che avete visto che scartati poi dentro ognuno aveva una figura diversa però a scartarlo in video era un po' una palla mi sono rotta le palle io a farlo figuratevi voi a vederlo perché erano tutti fatti avete visto cioè buttavo lì perché cioè erano tutti uguali cos'è che facevo guardate questo è verde lucido bellissimo li tiravo fuori li buttavo perché erano tutti uguali ecco questo l'ho preso vediamo perché non l'ho mai visto io i calendari ragazzi perché mi chiedete qualcuno mi chiede come mai compro tutti questi calendari cioè io non è che di prassi compro i calendari perché non li ho mai comprati ok io li compro per farci video mi piace fare il video ok mi piace magari far vedere tipologie di calendari diversi che magari voi potrete potete prendere spunto per comprarli magari per fare un regalo a vostro figlio vostra nuora suocere le nuore voletegli bene alle nuore nuore le suocere voletegli bene comprategli un calendario eh chi volesse comprare un calendario è bello anche fare un regalo magari regali un calendario dell'avvento per me io lo trovo un bel regalo perciò i calendari li prendo per farci i video e per farvi dare spunto a voi per non comprare sempre i soliti calendari di make up creme cremine e che allora parliamone che cazzo parliamone io sinceramente volevo prendere altre tipologie di calendari ok volevo prendere quello della degustabox però purtroppo è esaurito e non ho potuto prenderlo lo devono riassortire non so se lo riassortiranno ok ho preso quello della nivea ho preso quello della look fantastic io se mi credete ho qua un scatolone ma non sto esagerando un scatolone così strapieno di creme cremine burro cacao di tutto ancora 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 quelli dell'anno scorso perciò che io vado a spendere perché sono veramente carie perché guardate i calendari dell'avvento per quello che c'è dentro che la maggior parte delle robe che c'è dentro sono tutte piccoline che sono quelle mignotine che vi danno quando andate per esempio all'acqua e sapone alla cassa vi danno come regalini lì neumagini vi danno quelle lì capito perciò andare a spendere io ho visto tanti calendari anche quello dell'avono ho visto costa 59 euro volevo prenderlo poi c'è anche quello della amazon costa 69 euro anche quello però ragazzi sinceramente allora make up io vedete non mi trucco mi trucco pochissimo quei pochi trucchi che ho mi bastano ok perciò creme cremine cremotte ne ho lì vi ho detto ve lo farò vedere un scatolone così pieno che ecco cioè andare a spendere 50-60 euro per altri calendari dell'avvento per farci un video ok e poi ritrovarmi lì un scatolone di roba che non uso perché cioè creme ne avrò lì una decina per le mani cioè quante creme potrò usare in vita mia le regalo magari quando mia cognata due tre creme le do a lei le regalo perché cioè altrimenti io non è che le uso tutte capito se potessi farei un giveaway come ho fatto due anni fa che due anni fa ho fatto l'apertura dei calendari dell'avvento e siccome che io trucchi non ne usavo della revolution ho fatto un giveaway a estrazione a due tre di voi e ho regalato a voi però purtroppo non si può manco fare il giveaway perché hanno prendi la multa l'anno scorso lo volevo fare poi mi hanno scritto in privato non lo fare perché guarda che una youtuber che l'ha fatto ha preso non so quanti soldi di multa perché la vedono come una truffa capito pensate voi perciò manco più giveaway si possono fare perché altrimenti io avrei fatto un giveaway a estrazione tra di voi e avrei mandato un pacco con un po' di prodotti a voi ma non si può più fare manco quello purtroppo capito il giveaway perciò ragazzi quest'anno non compro più calendari dell'avvento di creme cremine perché primo costano sono assurdi quei prezzi perché porca miseria pagare 60 euro un calendario dell'avvento con dentro un po' di cremine grandi così c'è capito che sono dentro lo schizzetto sono troppo cari poi se ne stanno approfittando che voi non avete idea cioè voi pensate che io il calendario dell'avvento della BIC che ho fatto anche quello che almeno quello erano penne le uso io l'ho pagato non mi ricordo se 18 e 90 o 19 e 90 ma l'ho preso un mese fa se voi adesso andate a vedere costa 3 euro di più perché adesso li aumentano se ne approfittano io l'ho preso un mese fa e l'ho pagato poco che già è tanto perché pagarlo quasi 20 euro per un po' di penne è tantissimo se ne stanno approfittando troppo perciò ho detto prendo sti calendari dell'avvento qua che costano 7, 8, 9, 10 euro 11 euro almeno ti sono dentro un po' di dolci un po' di cose che si mangiano che poi io non è che me le mangio tutte io cioè tipo quelli che ho preso l'altra volta li ho messi dentro in un cestino adesso che viene Halloween gli do ai bambini che vengono a suonare il campanello altrimenti quando viene su mia cognata un po' glieli do a lei un po' glieli do a mia cugina un po' glieli do a Cristia cioè capito non è che me li mangio tutti 7 minuti e ancora devo aprire sto cacchio di calendario eccomi qua ah mi ero dimenticata di aprire la casella per il lapo e che cacchio ci dimentichiamo quella apriamo la 18 e sulla 18 beh questo è un calendario bellissimo perché animali eh perché non costa tanto non è che l'ho pagato intorno alle 8 euro questa volta ci sono questi dei premietti così non costa tanto c'è anche per i gatti e non costa tanto ce ne sono di vari prezzi comunque anche di meno costano eh ed è bellino dai l'idea per il cane per il cane l'avevo preso anche l'anno scorso ecco amore ti piace? e di la mia mamma pensa sempre a me che sono giù bambino vero amore ok andiamo con l'apertura number one speriamo non mi deluda questo sono logorroica ragazzi scusate cioè pensate che sono 8 minuti di video ancora devo aprire il calendario ho parlato su cose che non c'entravano niente scusatemi ma io sono logorroica quando comincio a parlare parlo 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 allora uuuuuh ma che bellino che bellino già questo mi piace casino allora sono uno scacchetto di ritter con la stellina andiamo adesso giove non so che gusto sia questo buono cioccolato al latte ah che lui vede che ce ne sono ancora dentro no no buono bellina poi è tipo uno scacchettino di ritter andiamo con la 2 qua ed è sempre uno scacchettino al gusto oh no questo dovevo mangiare anche il gusto yogurt ormai ho già mangiato quello là non è che posso mangiare un altro adoro io ritter al gusto yogurt ma si ma crepi la varizia mangiamo anche quello allo yogurt che buono allo yogurt andiamo con il numero andiamo la cazzo di cane perché già ho perso 9 10 minuti e non ho fatto niente andiamo e ho trovato un altro di questi al gusto nougat nougat crème nougat crème non so cosa sia andiamo con questo che bellino questo è il gusto mousse o cioccolà con la stella mousse o cioccolà mousse o cioccolà andiamo con questo che bellino anche questo questo che gusto è choco crisp questo invece c'ha la calza di natale poi ah ma guarda adesso ho visto che ha ogni casellina dentro vedete c'è il pacchettino qua c'è lo scogliatolino qua c'è l'altro pacchettino c'è il disegnetto andiamo con il 6 oh ma il 6 è grande oh due ce ne sono dentro sul 6 addirittura due al choco crisp e uno al nougat dov'è il 24 al 24 è lì ok non apriamo il 24 lo apriamo in ultima andiamo col 10 e c'è dentro la renna la renna con ma mandorlmousse mousse alla mandor lascerà guarda che bellino no dai questo allora sono tutti uguali questi eh perché sono però è più bellino perché a ognuna c'è su un disegnetto diverso anche qua c'è la guardate anche questo che bellino le due stelline le tre stelline questo è a ederlugat boh è tutto tedesco qua il 19 c'è un'altra renna e il gusto è mandorlmousse e c'è un'altra renna un'altra renna poi il 12 il 12 questo è diverso è la mousse au chocolat rosso è la mousse au chocolat aspettate perché c'è un ranteghino a parlare troppo qua ah c'è questo che avete visto nel video spesa il succo vi ricordate quando vi dicevo nelle degustabot che si trovava dentro che sembrava la bottiglietta per l'urina di quando si andavano ecco una volta erano queste le bottigliette una volta quando ero piccola io che si andava a fare la le analisi dell'urina mia mamma teneva la bottiglietta del succo di frutta le teneva le lavava bene che non aveva i tappi vita svita aveva quello così le lavava bene tirava via l'etichetta si faceva la pipì e si portava la bottiglietta vi giuro eh e tante volte nella degustabot mandano dentro delle bottigliette con dentro roba gialla che se mamma mia nel calendario dell'avvento direste robe vabbè andiamo con questa che è la sedici la stella cometa con zimt nugant rugant cream rugant cream o nugant cream con la stella poi andiamo alla quattro qua che anche qua c'è la renna alla sette qua ci sono le stelle di natale con e e del nu nu e del nugant nu nu qua abbiamo questo è il mio preferito perché ha la yogurt il fiocco di neve ed è quello allo yogurt il mio preferito strano che non c'è niente al cocco o un altro allo yogurt strano che non c'è quello al cocco peccato il 23 un altro allo yogurt un altro allo yogurt andiamo con il 22 questo qua verde non l'ho ancora preso no ed è gusto valusi nougat nougat cream e da su l'albero di natale albero di natale il mi sembra che l'ho no ce n'è no no ce n'è ancora qua allora aspettate apriamo la 5 la 22 e la 3 facciamo prima allora qua c'è un altro alberello di natale poi c'è le 3 stelline qua c'è la stella sulla 18 ci sono le 3 stelline e mi sembra che manca sul no c'è pure la 20 che c'è l'albero di natale qua mi sembra che manchi solamente manca solamente la 24 che è grande e sicuramente ci sarà dentro 2 ce ne sarà dentro 2 come qua e di fatti certo che che fantasia 2 che una è mandermus e uno è nug tang e ciappelo e penso di averle aperte tutte sì penso di averle aperte tutte allora tiriamo le conclusioni di questo calendario allora mi piace di più di quello dell'after di quello alla menta amore che ce ne sono qua ancora 2 dopo amore guarda è qua mi sono ancora 2 che ce ne ho piccoline e se mi dai un bacino ti do anche questa bacino alla mamma bacino 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 allora mi è piaciuto di più questo mi è piaciuto di più perché a parte perché ci sono svariati gusti non è come quello che è tutto alla menta perciò ho mangiato un due cioccolatini proprio è nauseante invece questo ci sono dentro vari gusti ecco ogni colore ha un gusto diverso perciò già qua i gusti sono più dopo sulle cartine almeno è a tema natalizio ma quella la cosa che non mi è piaciuta di sto calendario è che sinceramente sul 24 sarebbe stato più carino non lo so se avessero messo dentro magari un ritter di quelli grandi ecco dico io invece di mettere due di questi sinceramente per quel che è stato pagato che mi sembra questo anche boh sulle 11 euro anche questo credo sinceramente su quel che è stato pagato come minimo al 24 dovevano metterci una ritter intera che poi costa un euro a comprare ma neanche costa 60 centesimi a comprarla perciò non è che si sbragavano se mettevano dentro una ritter intera al 24 o almeno un qualcosa fatto a babbo natale perché qua su tutti questi cioccolatini non c'è niente con babbo natale non c'è niente zero anche questo non è che lo ricomprerei perché io ripeto compro i calendari per fare dei video perché mi piace mi piace fare i video mi piace mai darvi spunto perché se volete comprarlo almeno sapete cosa c'è dentro perché magari tanti di voi mi dicono eh volevo comprarlo adesso che l'ho visto non lo compro più ecco perciò anche questo guardate se volete fare un regalo altrimenti bah con 11 euro sai quante tavolette della della rita che compri perché poi per fare una tavoletta intera che sono 4 a 12 cioè capito sono 12 di questi con 24 di questi che è un euro comprate vabbè qua è bello dai perché lo apri perché però anche questo se fossi io non lo comprerei perciò non lo comprate certo che se devo fare pubblicità io non me la daranno mai la pubblicità perché perché purtroppo io dico la verità cioè non posso dire comprate comprate se no non comprate compratevi una decina di tavolette al gusto che volete voi e fatevelo voi il calendario che costa di meno ve lo dico io detto questo detto tutto io vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacio alla prossima kiss